Un video lungo, un video di quelli che ogni tanto faccio io, molto rilassato, molto colloquiale, per cui preparatevi perché sarà così e parlerò di un tema di cui sto notando grande interesse proprio perché molte persone mi stanno contattando chiedendomi delucidazioni anche in ragione dei corsi che ho fatto uscire, perché molte persone seguendo il corso poi e parlando di questo tema all'interno dei vari corsi che sto facendo mi chiedono notizie in più. Il tema è quello degli energy drink, quindi Red Bull, Monster Energy e molte altre bevande simili e direi che tutti le conoscete, no? Le conoscete perché a partire dagli anni Ottanta su tutti i mercati del mondo abbiamo assistito all'immissione di molte di queste bevande definite energy drink che come caratteristica comune sostanzialmente contengono taurina e caffeina e diciamo che hanno anche un'altra caratteristica comune che è quella di promettere di fare miracoli in termini di miglioramento dell'energia, della lucidità, della performance e cose di questo genere. Come sempre accade nel marketing e nelle narrazioni, chiamiamole moderne di mercato, le neuroscienze in qualche modo centrano e spesso centrano anche in maniera molto importante anche se non sono così poi esplicitate. In questo caso l'implicito messaggio di mercato sarebbe quello di suggerire che questi liquidi magici avrebbero il potere di manipolare positivamente il nostro cervello tramite gli effetti psicofarmacologici, ovviamente di caffeina e taurina. E questa è una cosa molto interessante perché poi il grande pubblico si lamenta degli psicofarmaci, si lamentano dell'approccio psicofarmacologico alla salute e anche al benessere e poi casualmente chissà come mai se il marketing gli fornisce la giusta imbeccata diventano tutti desiderosi di sperimentare le proprietà psicofarmacologiche non solo di caffeina, taurina and company ma ultimamente anche appunto di sostanze psichedeliche, la cannabis eccetera, come se ci fosse una psicofarmacologia chiamiamola medica, una psicofarmacologia di mercato, una psicofarmacologia naturale new age che in qualche maniera a desse diverso valore, diverso peso a queste diverse ipotetiche psicofarmacologie. In realtà la psicofarmacologia è una, le sostanze che agiscono sui nostri neuroni, sul tessuto neurale hanno quest'azione con qualunque premessa di mercato quindi insomma questo è uno di quegli effetti collaterali del marketing che poi va a influenzare e a modificare la percezione delle persone nell'ambito ad esempio di questa area delle neuroscienze quindi la psicofarmacologia insomma se è naturale va bene, se è medico no, se è dentro la Red Bull o dentro Monster Energy va bene, se invece non so in un altro contesto in una pillola non va più bene comunque al netto di questa digressione un pochino polemica come mi piace fare ogni tanto, anche per far sì che le persone abbiano le idee chiare ecco, la domanda che volevo farmi oggi è cosa c'è di vero in tutta questa narrazione degli energy drink e che cosa fa al nostro cervello questa miscela di taurina e caffeina e non solo, taurina e caffeina e anche altre sostanze perché poi ci sono altre combinazioni, diciamo questo è il basamento ma poi le varie brand, le varie aziende aggiungono anche altre cose come state capendo il mio obiettivo di oggi sarà quello di dirvi chiaramente che cosa dice la scienza al riguardo partendo da questo grande basamento di caffeina e taurina allora, per prima cosa una domanda importante, come vi ho appena accennato quali sono gli ingredienti completi di queste bevande cosiddette energetiche? qual è la ricetta segreta completa? allora, senza dubbio si parte da caffeina e taurina questo ormai l'abbiamo capito che è stata la copiata magica della bevanda capostipiche capostipite di tutte le altre, l'arci nota Red Bull ma poi con il passare del tempo e con il nascere comprensibile di nuovi brand che sono buttati in questo grandissimo business e quindi come l'altrettanto nota Monster Energy abbiamo assistito all'aggiunta di altri ingredienti alle volte appunto vitamine del gruppo B, alle volte carnitina, alle volte ginseng insomma tutte cosucce che dovrebbero in qualche modo fare bene a chi deve performare secondo almeno la narrazione comune definirei la narrazione pop abbondantemente sostenuta dal marketing il quale a sua volta si appoggia ad anche, in maniera un po' insomma pesante ad alcuni luoghi comuni che sono già presenti tra le persone quindi noi come sempre se una cosa gira fra la gente il marketing la prende, la trasforma, la rigira e la direziona verso questi obiettivi specifici di mercato quindi l'idea che la caffeina serva agli studenti l'idea che ci sia un composto dal nome roboante come taurina che giravano fra le persone, beh è stata presa e gettata nella narrazione di marketing di questi energy drink allora, in realtà bisogna ricordarci che oltre all'acqua che è chiaramente l'ingrediente principale di queste bevande tutti questi brand, tutte queste bibite soft drinks avevano e in larga parte hanno ancora un ingrediente che è sempre passato un po' inosservato di cui nessuno fa mai menzione esplicia specialmente di questi tempi di questi ultimi anni di conseguenza, proprio per iniziare con il piede giusto vi vorrei parlare di questo enorme elefante nella stanza ovvero di questo ingrediente molto importante di cui nessuno parla infatti, prima di andare avanti bisogna sapere che tutte queste bevande energetiche condividono con le altre bibite gassate e gli altri soft drink la presenza in grandi quantità di zucchero 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 e alle volte anche altri, vedremo altri carboidrati semplici alle volte anche maltodestrine, insomma carboidrati che tendono ad abbondare in tutti questi cosiddetti energy drink ed è importante valutare che la presenza del saccarosio pone subito molti dubbi sul fatto che queste bevande siano realmente salubri per via del fatto che come minimo tenderanno a generare picchi insulinici oscillazioni glicemiche e poi con il tempo, se l'utilizzo sarà continuativo elevato, addirittura massivo per alcune persone ci potrà essere la conseguenza dell'insulino resistenza, dell'obesità l'infiammazione cronica di basso grado e la, diciamo, il contribuire allo sviluppo di diabete quindi zucchero no buono è un brutto punto di partenza per queste bevande ok, adesso in molti potreste dire e beh, basta acquistarle senza zucchero certo, certo sì sì, peccato che questo poi non accada sul piano concreto sul piano di realtà dato che la quota di mercato dominata dagli energy drink è ancora oggi prevalentemente costituita dalle varianti zuccherate come dicono molti studi anche se è presente certamente una certa globale lenta tendenza generale della popolazione a diminuire il livello di zucchero assunto con le bevande però resta il fatto che così per il momento è ancora e in ogni caso, al di là dei dati di vendita che potete andare a controllare vi basterà semplicemente notare come nei supermarket dategli un'occhiata domani se andate a farvi un giro la carenza di prodotto negli scaffali degli energy drink riguarda quasi sempre le varianti con zucchero e quasi mai quelle sugar free e questo è un dato abbastanza inequivocabile ma veniamo adesso a parlare finalmente degli effetti sul cervello di quelle sostanze che gli acquirenti considerano importanti certamente le persone pur comprando acqua e zucchero in larga parte non comprano queste bevande per avere acqua e zucchero che la possono avere in mille altre varianti anche a minor prezzo diciamo ci sono proprio delle sostanze appunto la famosa caffeina, la taurina, la creatina, tutte queste cose qua che spingono per l'acquisto di Red Bull, Monster Energy and Company iniziamo ovviamente dalla caffeina ne ho già parlato tante volte per la questione del caffè andate a vedere cosa penso del caffè eccetera però mi pareva il caso di localizzarle in questo specifico discorso allora la caffeina sappiamo tutti è un alcaloide naturale presente non solo nel caffè ma anche nelle foglie di tè nelle noci di cola, nel guaranà, nel cacao poca gente sa che il cacao è una fonte non indifferente di caffeina quindi quando volete fare il vostro bilancio giornaliero ricordatevi che sì il cacao è delle cose buone delle cose che fanno bene eccetera eccetera ma c'è anche una quota non indifferente di metilxantine ricordatevelo la maggior parte delle persone in realtà non considera la caffeina uno psicofarmaco ma è senza dubbio come vi dicevo all'inizio è uno psicofarmaco ed è la sostanza psicoattiva più usata del pianeta subito prima dell'alcol e della nicotina è questo importante e ricordiamoci che il mercato della caffeina non solo di questi energy drink ma della caffeina sotto forma di caffè quindi Starbucks eccetera Illy, Lavazza e tutti questi brand è un mercato costantemente in ascesa tutti parlano di utilizzo moderato delle cose ma quando una cosa dà dipendenza e ha delle caratteristiche psicoattive l'utilizzo moderato non è così semplice io non sono vostro padre che vi dice cosa prendere, cosa bere, cosa non bere come drogarvi ragazzi io vi voglio solo dare informazioni non vi voglio dire cosa fare voglio che qualunque cosa poi decidiate consapevolmente di fare lo facciate questa decisione la prendiate a ragion veduta e con un po' di sal in zucca e anche nell'ottica lasciatemi dire del contenimento del danno se possibile quindi questo è importante iniziamo da questione di dosaggio ma quanto è la dose di caffeina considerata sicura quotidianamente? diciamo che in media una lattina di energy drink quindi una monster di questo genere una Red Bull più o meno ha un 80 mg di caffeina per cui le varie authority del mondo in particolar modo si sono sbattute abbastanza quelle del mondo anglosassone quindi Australia, Inghilterra ma diciamo le varie authority mondiali che si occupano di questo del mondo occidentale perlomeno considerano che una lattina al giorno sia la dose sicura per gli adolescenti lattina che vuol dire caffeina quindi al netto di tutto l'introito di caffeina ricordiamoci quindi cioccolato eccetera eccetera quindi 80 mg una lattina può essere considerata sicura mentre due o tre lattine al giorno dovrebbero essere la dose sicura per gli adulti in buona salute che non abbiano patologie e che stiano quindi bene questo considerando il valore medio giornaliero di 3 mg per chilo di peso corpore ad esempio io che peso più o meno 88 kg sono alto 184 cm potrei bere più o meno tre lattine al giorno se fossi un utilizzatore a parte che queste qua qualcuno dovrà berle ora vedo se fra me mia moglie o qualche amico se la vogliono bere ma ripeto io non è che non beva mai una cosa del genere è molto raro bevo dell'acqua la mia bevanda è l'acqua quindi così come ogni tanto può succedere che bevo dell'acqua ma mia bevanda è l'acqua e vi consiglio di fare lo stesso ovviamente sto parlando dico tre lattine al giorno ma ovviamente tenendo conto appunto che non dovrei assumere ulteriore caffeina da altre fonti ripeto caffè, cioccolato, cola, eccetera, tè, eccetera ok? a questo punto dobbiamo anche ricordarci però che la dose sicura di caffeina non vuol dire che sia la dose che ci fa bene o che ci sia di aiuto ok? questa è una cosa molto importante la dose media non è mai non dovrebbe funzionare da autorizzatore per utilizzare qualcosa se sappiamo che tre lattine non in teoria la persona adulta sana non fanno male non è che questo noi dobbiamo prenderlo come uno uno stimolo a usare tre lattine ok? sono un po' la media non è mai una cosa buona la media fa schifo i valori medi delle persone non so dell'utilizzo degli zuccheri eccetera non sono soddisfacenti se uno vuole stare bene vuole prevenire vuole avere una buona performance vuole essere longevo non si deve basare su quello che ti dicono essere la media delle cose da fare perché la media fa schifo ragazzi quindi ricordatevi di informarvi bene su quale sia effettivamente la dose giusta per voi al netto dei rischi e dei benefici sia che si tratti di energy drinks di zuccheri di proteine di integratori eccetera eccetera ricordatevi la media fa schifo dovete pensare a voi stessi sperimentare su voi stessi e capire quali sono i vostri parametri personali su cui basare le vostre scelte d'accordo? questo è molto importante ma a parte questi discorsi che sono comunque molto importanti arriviamo al punto quali sono gli effetti della caffeina sul cervello allora la caffeina assunta per via orale si comporterà in maniera molto netta come un antagonista competitivo dei recettori adenosinici del cervello in particolar modo dei sottotipi A1 e A2A in particolare l'interazione tra recettori A2A e recettori dopaminergici a livello dei gangli della base è molto interessante poiché è stato dimostrato che anche il sistema dopaminergico è coinvolto nell'espressione globale degli effetti della caffeina inoltre la stimolazione dei recettori A2A determina una diminuzione dell'affinità dei recettori di 2 verso la dopamina insomma le conseguenze di questa stimolazione saranno diverse e ripeto non ve le riassumo tutto qua perché sono complesse comunque globalmente abbiamo la certezza che sarà un aumento dello stato di veglia proprio anche per la questione del blocco della denosina molto banalmente quello del legame con i recettori per la denosina quindi aumento dello stato di veglia tendenza ad accelerare il modo in cui si parla le modalità di eloquio una blanda accelerazione anche del pensiero e una stimolazione motoria generalizzata questo è molto importante si tenderà ad essere un po' irrequieti una cosa anche da ricordarci che la caffeina poi anche dei metaboliti sono visto a fare tutto il discorso però questi metaboliti ad esempio possono aumentare la diuresi fare altre cose però qua adesso parliamo per comodità per non fare un video di sette ore solo della caffeina di questa metilxantina ok questo è molto importante e ricordiamoci quindi che tutti questi effetti non hanno il significato esplicito di aumento del rendimento o della creatività o che ti mettono le ali qualcosa del genere come ci dice il marketing ma semplicemente come dicevamo noi in ambito universitario si tenderà a muovere più aria come si dice con la tendenza ad accelerare ad essere più concentrati magari su alcuni semplici compiti motori ripetitivi no? ma ripeto come pulire guidare costruire semplici oggetti o addirittura avere maggior rendimento in catena di montaggio e come dico sempre la caffeina è la droga per me perfetta se sei uno schiavo se devi aumentare dei compiti semplici ripetitivi non super specialistici o cose di questo genere la caffeina è perfetta questo è un concetto che poi vi voglio ripetere è interessante ad esempio è una cosa interessante vedere come alcuni esperimenti in passato fatto sugli animali ad esempio mi viene in mente quello sui ragni sui ragni esposti alla caffeina beh questi esperimenti cioè drogando i ragni con la caffeina in questi esperimenti si evidenziava come la costruzione della ragnatela fosse quantitativamente effettivamente più elevata cioè facessero più ragnatela ma anche molto meno precisa e meno organizzata cioè facevano di più ma non meglio e quindi ripeto dico a ragion veduta che la caffeina così come molti altri stimolanti rappresentano diciamo delle droghe perfette se di lavoro fai lo schiavo magari poi facendo seguito alla sera dopo una giornata di caffeinizzato ti fai dell'alcol per evitare di farti pensare alla vita di merda che molti di noi fanno per poi riniziare il giorno dopo con un nuovo caffè nuovi compiti lavorativi ingrati quindi ripeto niente aumento delle performance o della creatività o del proven solving o della memoria tutte queste cose qua non sono non sono quello che otterrete da flebo di caffeina tanto per intenderci ci sono degli studi ma tutti da replicare e da rivedere bene che dicono che entro certi dosaggi effettivamente la caffeina possa aumentare le prestazioni fisiche ma poi vediamo che aumenta anche la pressione la pressione arteriosa il battito cardiaco la frequenza respiratoria insomma è tutto da vedere che ci sia un compito o un'attività umana che si possa beneficiare in maniera incontrovertibile da una qualche dose di caffeina ed è molto importante anche sapere che è vero che tu puoi andare a cercare degli studi che dicono che aumenta la memoria il rendimento di alcune funzioni imnesiche che le persone sembrano avere miglior rendimento però quando guardi veramente questi studi ti rendi conto che sono studi piccoli non replicati non fatti bene alle volte ci sono anche di mezzo dei conflitti di interesse ora non voglio dirvi cosa e non voglio neanche portarveli ma ci sono veramente andateli se avete voglia di dedicare vedete che gli studi più entusiasti sulla caffeina poi sotto casualmente ci sono molte aziende adesso ripeto non ho voglia di rompermi coglioni e avere problemi ma andate a cercare vedrete che ci sono delle fondazioni costituite dalle grandi multinazionali del caffè che poi sponsorizzano studi clinici e se andate a vedere alla fine degli studi clinici quelli che in realtà avrebbero più corpo sono non così infrequentemente sponsorizzati da queste fondazioni in cui sono coinvolte non a fini di lucro certamente le grandi multinazionali del caffè che però producono un materiale che poi diventa content marketing diventa content marketing per alcuni influencer della scienza e via 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 poi alla fine si riverbera sul mercato sul fatto che le persone comprano più caffeina in qualche forma che sia Red Bull Monster NOS o che sia o caffè banalmente è il risultato che la gente compra di più andate a controllare quindi ripeto non ci sono grandi effetti su creatività e rendimento efficienza concreta chiamiamola sicuramente poi se si dorme male si bevono alcolici si mangia male beh la caffeina permette di mettere una pezza ad uno stile di vita sbagliato o addirittura disastroso ma non mi sembra una grande funzione della caffeina questa direi no insomma la caffeina è effettivamente utile se vivi male questo abbiamo degli studi che ce lo dicono l'hangover da alcol l'inefficienza che deriva da un cattivo sonno può effettivamente essere tamponata dalla caffeina ma ne vale la pena? forse varrebbe la pena pensare appunto a vivere meglio piuttosto che a doparsi con uno psicofarmaco perché questo è nonostante sia secondo l'ottica di molte persone naturale perché lo troviamo nei chicchi di caffè che madre natura ci ha dato nel cacao questi doni fantastici come se ci fossero differenza fra chimica naturalità insomma i recettori sono quelli i recettori per l'adenosina sono quelli ragazzi se uno va in blocco su questi recettori che sia naturale che venga da non so quale entità metafisica o dal laboratorio di sintesi cambia niente ricordatevelo tra parentesi la caffeina insieme all'alcol e alla nicotina fa parte di quelle sostanze che possono peggiorare il disturbo da panico e i disturbi d'ansia in generale per cui regolatevi se volete maggiore tensione emotiva e nervosismo la caffeina è un'ottima soluzione sì perché molte persone vengono da me per la questione degli attacchi di panico ma se gli dico ragazzi tu stai soffrendo per questa cosa io ti spiegherò come fare per migliorare magari useremo anche dei farmaci o faremo degli interventi psicoterapeutici ma tu devi togliere queste tre sostanze perché l'abuso di queste tre sostanze e anche l'utilizzo che per molti non è percepito come di abuso peggiorerà il panico peggiorerà il disturbo d'ansia e eccetera quindi sappiate che il risultato la finestra terapeutica della caffeina e di conseguenza queste bevande ne hanno molta la finestra terapeutica è stretta più stretta di quanto non pensi la gente d'accordo? ok infine ricordiamoci che la caffeina dopo un certo lasso di tempo questo è molto importante comporterà dipendenza e tolleranza ovvero avremo bisogno di dosaggi sempre più elevati per avere gli stessi effetti psicotropi gli stessi effetti psicofarmacologici e poi per finire il discorso ricordiamoci anche che alti dosaggi di caffeina per lungo tempo comportano una sindrome da astinenza è una sindrome d'astinenza descritta più frequente di quanto la gente non immagina una sindrome d'astinenza che spesso è bifasica prima si ha un aumento una diminuzione ulteriore di energia di sonolenza sul cuore per poi avere irrequietezza quindi le persone non capiscono più che cosa succede pensano che ci sia un nervosismo magari derivante dalle cose che gli stanno accadendo invece può essere un rebound caffeinico quindi ripeto la sindrome di assinenza da caffeina è assolutamente presente per cui se siete super utilizzatori di caffeina imbibinatori di queste bevande energetiche diminuitele piano piano fate un lento scalaggio poi a un certo punto ovviamente chiudetele come in realtà si dovrebbe fare sempre quando si utilizzano sostanze psicofarmacologiche ok un'ultima cosa un'ultimissima cosa sulla caffeina che questa è più diciamo una curiosità ma interessante per far capire l'anima segreta di questa sostanza naturale che è così corroborante nel caffè o così stimolante in queste bevande bene sapete che la caffeina possiede addirittura anche una dose letale è proprio così al contrario di altre sostanze che non ce l'hanno che sono più molto più demonizzate la caffeina ha una dose letale se non si sta attenti tanto per dirla tutta ci si può uccidere di caffeina usando losaggi ovviamente molto elevati anche qua gli studi non sono tutti concordi ma diciamo che superiore a 5-6 grammi al giorno si rischia e ovviamente 5-6 grammi al giorno di caffeina non sono facili da raggiungere ma si possono raggiungere con formulazione esempio di magranti o di caffeina in pillole oppure con diverse decine di energy drink quindi o combinando le varie cose poi ci sono adesso altre appunto il marketing spinge sempre la caffeina per la questione del dimagramento eccetera eccetera quindi uno se non sta attento può quantomeno intossicarsi e addirittura rischiare di morire ok dopo questo scenario diciamo un po' scuro sulla caffeina parliamo adesso di taurina questa sostanza dal nome così suggestivo e potente fantastica taurina è nata per essere uno strumento di marketing taurina infatti già Red Bull ha proprio Bull Toro un toro messo in copertina quindi diciamo che ha rappresentato una leva di marketing addirittura all'inizio di questo brand quindi nome potente nome suggestivo la taurina cos'è la taurina è un aminoacido condizionatamente essenziale il che significa che la capacità di biosintese del nostro corpo è limitata al 40% più o meno mentre il restante 60% dipende dall'alimentazione cioè un aminoacido che dobbiamo comunque assumere anche tramite l'esterno il cibo anche ovviamente tramite questo qua dentro c'è taurina chiaramente la taurina però chiamiamola quella che voi tanto vi piace naturale la trovate in uova pesci carne latte non degli alimenti di origine vegetale questo è importante solo in alimenti di origine animale nell'essere umano adulto la taurina è sintetizzata nel fegato a partire da L-cisteina L-metionina quindi questa sintesi in presenza ovviamente di sufficienti quantitivi di vitamina B6 ed è per questo che probabilmente mettono un po' di vitamina B6 per dare anche quest'idea di efficienza della reazione ricordiamoci ovviamente che la sintesi endogena non avviene solo per se noi mangiamo carne la sintesi endogena ce l'hai anche per se cisteina e mettonina derivano ad esempio da cereali fagioli cose di questo genere si ha una sintesi chiamiamola epatica però per avere diciamo l'ideale apporto quotidiano di taurina bisognerebbe anche mangiare un po' di cibo chiamiamolo di origine animale a questo punto domanda molto importante ma cosa può essere utile la taurina presente nello specifico di questi energy drink come mai qual è il razionale per cui red bull and company mettono la taurina negli energy drink questa molecola sappiamo che attraversa abbastanza facilmente la barriera ematoencefalica e nel sistema nervoso centrale ha diversi ruoli non ne ha solo uno ne ha diversi ha sicuramente efficacia come neuromodulatore osmoregolatore regolatore dei livelli di calcio del calcio citoplasmatico è anche un fattore trofico nello sviluppo è neuroprotettiva ha anche una funzione neuroprotettiva ovviamente non stiamo parlando di reazioni ad altissima efficienza però tutto questo spettro di azione ce l'ha è interessante notare anche che la taurina ha una struttura chimica molto simile all'acido gamma amminobutirrico il cosiddetto GABA questo è una cosa molto interessante di cui le persone non sono proprio a conoscenza è che il GABA è un neurotrasmettitore però di tipo inibitorio proprio così inibitorio e quindi la taurina potrebbe avere degli effetti rilassanti addirittura in qualche modo opposti a quelli stimolanti della caffeina inoltre ha effetti opposti a quelli della caffeina anche a livello cardiovascolare perché diminuisce la pressione sanguina diminuisce anche la frequenza dei battiti direi che tutto questo è un po' curioso è quasi paradossale mi viene da pensare che abbiano voluto compensare tamponare gli effetti simulanti della caffeina non tanto in termini di aumento di questa stramaledettissima performance ma piuttosto per far sì che le persone non diventassero troppo nervose da un overdose di caffeina che continuassero comunque a prenderne quindi potessero prenderne di più in realtà anche se poi l'implicito è quello di essere sinergica con la caffeina in questi termini e qua c'è una grande confusione diciamo neuro-biochimica anche se da un punto di vista del mercato sicuramente è una buona accoppiata perché permette semplicemente di prendere più di queste bevande senza avere effetti troppo elevati di tensione emotiva tanto per intenderci ci sono anche altre funzioni interessanti della taurina la taurina può facilitare il dimagrimento ad esempio grazie a due sue proprietà la prima è la capacità di migliorare lo scambio di ossigeno tra sangue e tessuti il che significa che c'è maggiore presenza di ossigeno utile per la mobilizzazione e la combustione degli acidi grassi consentendo un dimagramento più efficace c'è un risparmio di glicogeno la possibilità di mantenere le energie più a lungo inoltre secondo punto riduce il senso di fatica e stanchezza comportandosi in questo senso da blando come si chiamava un tempo psicanalettico caffeino simile in questo senso può essere sinergico con la caffeina mantiene sicuramente anche un po' in alto il senso di veglia di risposta agli stimoli chiamiamolo che sarebbero dei requisiti chiamiamoli importanti durante gli allenamenti consentendo di impegnarsi più intensamente con ovviamente conseguente maggior dispendio calorico quindi potrebbe avere questi effetti poi anche una proprietà interessante forse più importante di quelle di cui vi ho detto fino ad adesso è quella di essere insulino mimetica blandamente insulino mimetica ripeto non so ecco anche questo è un punto molto importante cioè l'idea che le reazioni catalizzate da questi composti siano ad alta efficienza è quel qui pro quo che sia anche in molti nutraceutici psiconutracei si immagina che siano reazioni ad altissima efficienza non è così la taurina non genera reazione ad altissima efficienza cosa che è più un requisito di alcuni farmaci quindi comunque ha effettivamente un'azione insulino mimetica quindi migliora il trasporto del glucosio della creatina e degli aminoacidi all'interno della cellula poi la taurina agisce anche quindi un po' da sostanza ipoglicemizzante in grado di abbassare chiamiamolo il quantitativo di zuccheri nel sangue ripeto blandamente ipoglicemizzante insomma ci sono comunque delle proprietà piuttosto interessanti associate poi ad altre che in qualche modo interferirebbero vanno un po' contro con l'azione e non sono sinergiche ecco diciamo così con l'azione della caffeina ripeto forse l'obiettivo era quello di tentare di abbassare il potenziale ansiogeno della caffeina ma ripeto che questo accada veramente è tutto da dimostrare anche se probabilmente queste aziende questi brand avranno fatto immagino delle loro ricerche ma vediamo adesso di proseguire andiamo avanti perché se no questo video diventerà troppo lungo non so se vi faranno piacere anzi ditemelo scrivetemelo se vi piacciono i video più lunghi o più corti ma comunque andiamo avanti e proseguiamo con gli altri componenti degli energy drink perché oltre al glucosio e al saccarosio vediamo che ci sono anche altri carboidrati strani come dicevamo prima in queste bevande come il glucuronolattone glucuronolattone ricordatevi questo nome andatelo a cercare nel vostro energy drink preferito si tratta di un carboidrato che è presente naturalmente nell'uomo è prodotto a partire da glucosio nel fegato il suo precursore è l'acido glucuronico è interessante rispetto al tema degli effetti neuronali in quanto esistono molte leggende circa l'uso di questa sostanza questa sostanza che avrebbe proprietà strane misteriose controverse la più popolare di queste leggende narra che l'esercito il solito esercito degli Stati Uniti lo avrebbe utilizzato come droga stimolante durante la guerra del Vietnam ma che poi ne avrebbe sospeso l'utilizzo in seguito a casi di tumore cerebrale chissà in letteratura ci sono notizie molto strane e vaghe su questo carboidrato per cui ripeto che posso avere delle funzioni stimolanti potrebbe essere che possa causare addirittura dei tumori non sono riusciti a trovare delle conferme al riguardo ripeto è una sostanza strana comunque che ha una storia lunga andatela a vedere se avete delle informazioni in più scrivetemele e ditemele perché sono curioso anche io veniamo adesso alle arcinote stranote vitamine del gruppo B sono vitamine idrosolubili lo sappiamo tutti necessarie come coenzimi per molte funzioni cellulari specialmente per la funzione dei mitocondri e per la produzione di energia fanno parte di questo di questo gruppo probabilmente le conoscete tiamina riboflavina gniacina acido pantotenico peridossina biotina e la super nota cianocobalavina vitamina B12 le troviamo tutte nel cibo specialmente se crudo diciamo che se non è crudo se è troppo cotto se è processato possono diminuire come concentrazione ma diciamo chiaramente che è molto improbabile che una persona in occidente nel 2023 ne possa essere carente o per me se ne è carente potrebbe essere transitoriamente carente diciamo che il nostro problema in questo periodo non è tanto la carenza ma l'esagerazione di sostanze perché poi mangiamo cibi di merda poi ci buttiamo giù chili di vitamine per cui insomma tanta scena in queste in questi in questi energy drink ma l'utilità probabilmente non è così elevata diciamo che servono a fare come diceva il famoso Sheldon Cooper un'urina di lusso dato che smaltiamo il loro eccesso per la maggior parte di queste vitamine per via urinaria come si dice urine molto cariche di vitamine produrremo e questa è una cosa che mi ha sempre fatto ridere quando Sheldon lo dice nel famoso serial Big Bang Theory di cui io sono un grandissimo fan se non l'avete mai visto guardatelo perché è veramente da nerd quale io sono bene abbiamo poi abbiamo poi di cosa vi parlo inositolo inositolo è spesso definito come vitamina B7 ma non è una vitamina in quanto può essere sintetizzato dall'organismo ma a cosa serve a livello del cervello l'inositolo contribuisce alla conduzione degli impulsi nervosi esiste una stretta correlazione tra diminuzione dei livelli di inositolo nel tessuto nervoso e l'età diciamo che potrebbe essere uno degli indicatori possibili di invecchiamento e di diminuzione della performance effettiva del nostro tessuto nervoso per procedere con cura nella descrizione degli di questi ingredienti vi volevo parlare adesso anche della carnitina devo un po' accelerare perché se no rischiamo di far durare questo video 3000 ore e non voglio perché poi so che vi rompete i coglioni e non voglio che ve li rompiate carnitina la ritroviamo in molte bevande energetica chiaramente come la monster energy magari non nella red bull sì nella nose sì nella tiger insomma però c'è in molte di queste bevande la carnitina diciamo subito che il nostro organismo è in grado di sintetizzarla autonomamente ma viene spesso utilizzata come integratore alimentare e anche come farmaco specialmente anni 80 e 90 la carnitina era diventata un blockbuster tutti prescrivevano carnitina per stanchezza cronica la famosa stanchezza cronica che c'è da decenni negli anni 90 negli anni 80 anni 90 era combattuta strenuamente a botte di carnitina si cerca sempre di trovare dei prodotti per queste condizioni chiamiamole parafisiologiche in alcuni casi anche molto gravi che generano addirittura disagio clinico significativo ma utilizzando sostanze imbibinandosi quando invece la stanchezza cronica probabilmente può migliorare potrebbe migliorarsi più che da integrazione alimentare da modifiche strategiche dello stile di vita ma questo è ancora un altro discorso però in realtà molte persone che utilizzano queste bevande sono anche un po' alla ricerca di un tampone per la stanchezza cronica quindi diciamo che è un discorso che è tutto collegato quindi viene utilizzato spesso come farmaco come integratore molte aziende hanno prodotto e producono farmaci o prodotti a base di carnitina con l'obiettivo di aumentare l'ossidazione del tessuto adiposo a scopo energetico e anche dimagrante diciamo fra i claim commerciali c'è anche quello che la carnitina possa favorire il dimagramento e qua non mi esprimo perché ripeto per dimagrire bisogna fare tutt'altro che aggiungere carnitina alla propria dieta in teoria si parla spesso dell'integrazione della carnitina per ovviare a delle ipotetiche carenze certamente ma si tratta di un'eventualità piuttosto rara per cui anche sta belin di carnitina in queste tutte queste bevande non posso far altro che dirvi un grandissimo e andare avanti per finire io parlerò adesso del guaranà un altro degli ingredienti magici di queste bevande energetiche bene vediamo che la paolinia cupana comunemente conosciuta come guaranà è una pianta rampicante sempre verde nativa della foresta amazonica ma ormai la troviamo in molti altri posti è stata coltivata da sempre per i suoi frutti ricchi le sue bacche ricche di caffeina e utilizzate appunto sia per gli effetti chiamiamoli stimolanti e quindi un altro carico di caffeina che si aggiunge alla caffeina e poi anche l'ipotesi che fosse afrodisiaca ma tutte tutte le cose che ci rendevano più requieti poi sembrava che fossero afrodisiaci in realtà non credo che abbia alcun tipo di impatto sulla nostra vita sessuale sulla nostra libido comunque i semi di guaranà contengono indubbiamente notevole quantità di metilxantina caffeina teobromina teofillina in particolare poi saponine polifenoli cose che possono fare bene specialmente tannini e comunque molti altri composti magari che ne so ci sarà anche uno che avrà degli effetti sulla libido studi a riguardo però non li ho ancora visti a cosa serve il guaranà nel contesto specifico delle nostre stra abusate bevande energetiche per essere parlo in estrema sintesi a me non viene in mente altro che serva ad aumentare ancora il quantitativo globale di caffeina di queste bevande senza dire che aggiungiamo caffeina per cui che dire diciamo che potrebbe aumentare più che gli effetti positivi il rischio di effetti collaterali da caffeina per dirla in poche parole e di conseguenza occhio perché ripeto alla fine non ci abbiamo 80 milligrammi di metilxantina all'interno calcolate la vostra giornata cioccolato tè caffè caffè banali queste sostanze quindi taurina carnitina ginseng guaranà eccetera ci sarebbe tutta la questione anche del ginseng ma adesso troppo tardi comunque nuovamente è un adattogeno che se vogliamo considerare ecco per due parole il ginseng sicuramente può avere effetti adattogeni ma è qualche cosa che andrebbe integrata con regolarità e ripeto prenderlo con regolarità da queste bevande vuol dire con regolarità imbibinarsi anche di caffeina quindi se volete sperimentare il ginseng o altri adattogeni insomma tutti quelli che sappiamo fatelo scorporando usando solo quella sostanza non pensate di andare avanti a prendere ginseng da queste qua queste marche non credo che neanche ce l'abbiano però molte altre marche ce l'hanno imbibinandovi di caffeina se usate il ginseng usate il ginseng in tutto quello che riguarda la medicina chiamiamola funzionale per metterci d'accordo e se volete sperimentare su voi stessi e fare le cose bene dovete fare una cosa per volta ricordatevelo per avere conoscenza e consapevolezza di che effetto fanno su di voi vari cambiamenti di lifestyle o anche di sostanze perché ripeto ci sono dei nutraceutici interessanti io vi consiglio sempre di fare una cosa alla volta un esperimento alla volta per ascoltarvi prendete traccia prendete due righe scrivete e guardate che risultati avete ripeto io non prenderei non sperimenterei il ginseng ottenendolo da delle bevande energetiche perché vuol dire che non prendete solo il ginseng ma anche una barcata di altre cose soprattutto zucchero e caffeina per dirla semplice ok per fare un pochino per tirare un pochino le fila potremmo dire che comprando degli energy drink in estrema sintesi si compra una costosa miscela di acqua zucchero e caffeina pagandola davvero cara in realtà perché il quantitativo all'interno di queste sostanze in alcuni casi per fortuna in altri casi purtroppo è veramente elevato e se voi volete fare degli esperimenti con la carnitina o con altre sostanze appunto con il ginseng o con il guaranà vi consiglierei di farlo sperimentandolo a singola sostanza e non misceloni da cui non potete trarre delle conclusioni perché semplicemente il vostro corpo non avete idea non solo di come reagisce a tutto l'insieme di queste sostanze ma come queste sostanze possono fra di loro interagire perché non lo sappiamo bene neanche noi a questo punto oppure interagire con altre cose che state prendendo o con addirittura farmaci perché ricordiamoci che c'è anche la possibilità che queste sostanze che compongono gli energy drink interagiscono con alcuni farmaci ad esempio sono state descritte ripeto anche qua siamo in ambito aneddotico ma interazioni con il litio il litio che si utilizza per stabilizzare l'umore ma ripeto qua stiamo parlando di un tema di cui non voglio neanche entrare perché dovrei andare troppo veloce magari dovrei essere perdere un po' più di tempo però ripeto le interazioni diciamo anche farmacologici non sono da poche in ogni caso le altre sostanze che compongono queste bevande ripeto sono presenti in quantitativi piuttosto inefficaci per essere tirare le somme e inefficaci genereranno qualsiasi reazione di aumento di energia nel breve periodo perché questo è un po' il succo sono inefficaci per generare aumento di energia motivazione performance ok potrebbero funzionare lo voglio ripetere come integratori nutraceutici ma nuovamente pagati troppo troppo tutti assieme non capite niente quindi se volete sperimentate i singoli nutraceutici ok e direi che non è tutto ancora qualcosa volevo dirvi infatti un'altra cosa molto importante da sottolineare a mio parere adesso vorrei tirare le fila e dare anche un po' un mio giudizio è la disonestà perché c'è oggettivamente una disonesta promessa di marketing che viene fatta da chi commercia queste bevande in poche parole queste bevande vengono vendute in risposta alla necessità di dormire meno di combattere la stanchezza di aumentare in qualche modo la lucidità è una performance che non abbiamo sia nello sport che nello studio certamente nel lavoro anche in ambiti molto specifici mi viene da pensare alle pubblicità che fanno il mondo del gaming di altre nuove attività digitali moderne chi programma chi è un marketer e cose di questo genere praticamente c'è la tendenza di invogliare le persone questo mio parere a trascurare il proprio stile di vita mettendo delle pezze poi qui e là perché è questo che fanno alla fine queste bevande non potenziano nulla ma tentano di attenuare i danni di un lifestyle pessimo e questo non va bene non va bene per nulla d'accordo? arriviamo a tirare delle conclusioni finalissime potremmo dire che gli energy drink sono una promessa non mantenuta e questa la domanda che ci facciamo sicuramente queste bevande sono diventate un simbolo della vita moderna una vita frenetica offrono la promessa di energia immediata e resistenza prolungata ma nonostante questo come emerge dall'analisi che abbiamo appena fatto queste bevande potrebbero non essere per nulla la soluzione miracolosa che molti cercano in primo luogo è cruciale direi sottolineare l'inefficacia di queste bevande nel fornire un vero e proprio aumento delle prestazioni scordatevelo non aumenteranno la creatività la vostra efficienza reale concreta nella giornata mentre la sensazione immediata potrebbe essere quella di un rinnovato vigore magari però legato prevalentemente all'effetto placebo direi in alcuni casi dato che non abbiamo una chiara evidenza scientifica che dimostri un beneficio sostanziale duraturo che derivi da questo consumo regolare che sconsiglio al contrario ci sono studi che suggeriscono come l'assunzione regolare dal lato opposto possa portare effetti collaterali indesiderati abbiamo molti studi che dicono che ci possono essere tensione emotiva irrequietezza motoria e ansia connessa a un utilizzo costante e magari anche elevato di queste di queste lattine multicolori inoltre ripeto il costo di questi prodotti è spesso sproporzionato rispetto ai benefici che offrono molti consumatori si trovano a spendere davvero grosse somme di denaro a tratti da campagne pubblicitarie accattivanti da suggestioni senza considerare che in molti casi la semplice buona dieta equilibrata costruita sarto realmente su di voi un buon riposo notturno lo sganciamento da dipendenze come queste la gestione dello stress migliore una buona attività fisica potrebbero offrire dei risultati incredibilmente migliori incredibilmente migliori direi che poi un'altra cosa che è particolarmente preoccupante è la selezione degli ingredienti presenti negli energy drink ingredienti caffeina tavolini nositolo guaranavi tamina il gruppo B sono stati scelti più per le loro capacità di marketing che per la loro effettiva utilità ripeto perlomeno utilità nel breve periodo questa scelta è sicuramente guidata dalle tendenze di mercato dalle percezioni del pubblico piuttosto che da una reale compressione evidence based scientifica dei loro benefici per la salute la percezione chiaramente deriva dalle campagne pubblicitarie ed è questa che la fa veramente da padrone queste bevande sono tutta una questione di percezione Red Bull Monster Energy tutti gli altri brand potremmo dire che sono in realtà non delle aziende che producono integratori chiamiamole ma in realtà sono delle media company che si dedicano alla produzione di eventi di gesta sportiva straordinaria ma alla fine è il loro modo per vendere lattine di acqua e zucchero e caffeina è un po' poco direi non so se vi ricordate il famoso quello che si buttava dallo spazio quassa quanto è costata quella roba lì beh il ritorno sull'investimento di quell'evento così pazzesco della Red Bull in cui sto qua si buttava dalla stratosfera e ritornava sulla terra vestito dell'astronauta beh credo sia stato vendere molta acqua e zucchero un po' poco per la suggestione che forniva quell'evento in conclusione mentre gli energy drink possono sembrare una soluzione rapida per combattere la stanchezza addirittura ci sono narrazioni che parlano di un'efficacia della stanchezza cronica cose di questo genere comunque direi che è essenziale approcciarsi a questi prodotti con un occhio critico un occhio molto critico episodicamente si possono prendere si possono vedere se qua non è che li butto dalla finestra magari o io mia moglie o qualche amico ce li berremo ma sicuramente lo spunto che fornisco sempre anche quest'oggi è di affidarsi di diciamo non affidarsi a soluzioni rapide e potenzialmente dannose è sempre meglio ricorrere a metodi naturali sostenibili consapevoli basati su informazioni sulle migliori informazioni possibili per mantenere migliorare salute benessere la vera energia proviene da una vita equilibrata da una dieta sana da un adeguato riposo da un'età da un'adeguata attività fisica dal depotenziamento delle dipendenze dalla gestione dello stress punto 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 ok che dire di altro direi che abbiamo detto molto come sempre ci sarebbero moltissime altre cose da aggiungere ma per adesso mi fermo qui dato che volevo ero partito che volevo fare un contenuto non troppo lungo ma direi che abbiamo ovviamente sforato eventualmente aspetto vostre domande specifiche e in realtà appunto dico credo di essere andato molto lungo comunque commentate ditemi quello che ne pensate bene anche in questo caso spero che sarete d'accordo comunque si tratta di un tema contemporaneo interessante e alla luce anche di soprattutto di quanti miliardi fatturano questi brand e quanti soldi soprattutto spende la gente per queste lattine piene di acqua soprattutto zucchero e qualche spruzzatina di qualcosa di cui non abbiamo ancora ben chiaro se effettivamente possa essere utile non dico piene di niente ma piene di dubbi sì lattine piene di dubbi in ogni caso spero di avere una discussione interessante giù nei commenti mi raccomando fatelo nell'apposito spazio sia che siate su youtube su spotify se state ascoltando il podcast lo psiconauta anche lì potete scrivere su spotify lo sapete commentare i singoli episodi ma prima di salutarvi fatemi fare anche a me una super smarchettata piccolo consiglio ok non vi parlerò del mio libro l'avete già comprato tutti ecco non smarchetto no sai chi ce l'avete già tutti e chi non ce l'ha peggio per lui ma vi do un altro consiglio allora oggi e il mio consiglio mi raccomando iscrivetevi alla mia newsletter gratuita e tramite questa newsletter resterete in contatto con me e ogni settimana avrete delle informazioni utili molto utili esclusive che vi garantisco non troverete da nessun'altra parte sempre sulla salute mentale psicofarmaci temi contemporanei stile di vita soprattutto benessere prevenzione longevità mente umana benessere in generale tutti argomenti che sono sicuro vi potranno appassionare soprattutto vi potranno essere utili il link lo trovate giù in descrizione mandate giù a leggere c'è il link per tutto ah ecco anche perché cosa molto importante se in futuro riprenderò a fare dei consulti e visite online lo segnalerò come sempre nella newsletter perché quando si aprono dei piccoli slot chi segue la newsletter ha la possibilità di fare un consulto con me per cui se vi interessasse in futuro essere visitati da me iscrivetevi ok per adesso è veramente tutto datemi un like iscrivetevi anzi ripeto abbonatevi per sostenere questo mio lavoro di divulgazione spero abbiate già acquistato secchio non voglio neanche pensare che non abbiate acquistato il mio libro e comunque concludo dicendo che come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento ciao a tutti